Ragazzi oggi puliremo il mio porcellino d'India, puliremo la femmina perché il maschero è già pulito e mi sono dimenticata di fare il video. Puliremo proprio lei! Beh, come si può notare, lui l'abbiamo già pulito, l'abbiamo già lavato. E adesso tocca a te! Ecco qua che stiamo mettendo l'acqua. Eccola qui, la mia femminuccia, la mia femmina, la mia femmina. Ovviamente con l'acqua fresca, perché ovviamente lei ha caldo. E la mia femminuccia, la mia Kika, come sapete voi su Youtube, lei si chiama Kika. Ci vediamo dopo quando la asciugherò. Ed eccola qua, anche se non si vede, perché è dentro un asciugamano. Eccola qua, anche se non gli piace essere asciugata, bisogna, perché se no si prende il raffreddore.